198 prodotti agroalimentari tradizionali, 8 eccellenze a marchio europeo, 3.616 imprese artigiane alimentari, 5.703 addetti e solo nel mese di dicembre quasi 400 milioni di euro di spese dalle famiglie. Sono questi i numeri principali della food economy artigiana in Sardegna che sotto le festività di Natale sta facendo registrare un'importante crescita di produzione e vendite. Una miniera d'oro per l'economia isolana passata al setaccio dalla Confartigianato Imprese Sardegna che attraverso l'osservatorio per le piccole e medie imprese ha elaborato il dossier L'artigianato alimentare e le eccellenze del food made in Sardegna. Per Natale il valore delle vendite al dettaglio di prodotti alimentari e bevande supera del 19,8% la media mensile annua, spiega l'associazione in una nota. In Sardegna si stima a dicembre una spesa delle famiglie in prodotti alimentari e bevande di 398 milioni di euro. Più alta di 66 milioni di euro rispetto al consumo medio mensile. A livello provinciale si stima una spesa delle famiglie di prodotti alimentari e bevande di 122 milioni di euro per acquisti nel nord Sardegna. 106 a Cagliari, 83 nel sud, 59 e 37 euro stano. Anche quest'anno invitiamo i sardi e tutti gli amanti della nostra regione ad acquistare i prodotti del territorio dalla qualità eccellente e dalla filiera cortissima anche in una logica di promozione e rilancio del made in Sardegna. Ha commentato Stefano Mameli, segretario regionale dell'associazione. Sono infatti i nostri terreni che da sempre ci danno prodotti unici e contribuiscono a fare della Sardegna una terra di qualità, della vita e della longevità.